Ciao. Buonanotte, avvocato. Ci vediamo sabato al Giotto. Titti, che stai guardando? Hai finito il volontariato? Sì, no, perché ho visto una... c'era una stella cadente. Oh, dove? Hai espresso il desiderio? Sì. Ho chiesto che spariscano per sempre dalla faccia della terra le scarpe da ginnastica con la zeppa. Sì. Io... una cena di Natale perfetta, che possibilmente si cucini da sola. Un divorzio rapido e indolore. Sei seduta di terapia di coppia, punto. Questo è l'accordo con Guido. E comunque, quando la terapista saprà come sono andate le cose, me la caverò con una. È chiaro che ho ragione a volermi separare. Sì. Però ti prego, dopo la cena di Natale, sempre che la facciamo... No, si fa. Si fa, si fa, si fa. Verrà incoperto. Ho una strategia. Ho una strategia. Ho una strategia. Grazie a tutti.